E' stato pubblicato online su crpiemonte.tv il video documentario sulla seconda legislatura realizzato dall'ufficio stampa del Consiglio regionale. Si tratta di Una Regione per lo Sviluppo, prodotto multimediale della serie Piemonte Memoria che ricostruisce in sintesi gli episodi salienti dell'attività regionale dal 1975 al 1980 anche attraverso interviste e testimonianze di alcuni protagonisti della scena politica dell'epoca. Sante Baiardi, ex assessore e consigliere regionale del Partito Comunista Italiano Aurelia Castagnone Vaccarino, ex consigliere regionale del Partito Repubblicano Giuseppe Cerchio, ex consigliere regionale della Democrazia Cristiana e Claudio Simonelli, ex assessore e consigliere regionale del Partito Socialista Italiano.